La parzelletta di Geppo Il giardiniere di un manicomio si presenta all'ufficio del direttore Busta Apre Ah buongiorno prego Me scusi direttore Una cortesia Me controlla per favore se manca qualcuno dei matti? Il direttore del manicomio mi fa Ma scusi perché? No perché no mi è scappato con mi moglie La Marco Vero Dimensione suona Roma Il ritmo della capitale